Presentato a Palazzo Lascaris il rapporto 2015 sulla sicuretta stradale. Dai dati emerge una battuta d'arresto nel percorso di miglioramento che in Piemonte proseguiva senza interruzioni dal 2002. Tutti gli indicatori delle incidentalità mostrano un lieve peggioramento nell'ultimo anno, 6 morti e 82 feriti in più. La provincia di Cuneo resta l'area con le maggiori criticità, 3,4 morti ogni 100 incidenti a fronte di una media regionale di 2,4.